Buongiorno a tutti, sono Flavio Boccia, il Presidente nazionale di Asia, l'associazione che tutela principalmente i commercianti e siamo qui a denunciare le grosse anomalie che riguardano il trasporto pubblico, sia quello ferroviario che sia quello del CSTP. Oramai le frazioni, o meglio la provincia di Salerno, è straniata dalla città, da Salerno. A partire dalla Valle dell'Irno, dove per mesi hanno fatto dei lavori costosissimi sulle ferrovie dello Stato, sulla tratta che riguarda Mercato San Severino e Salerno, ed è bastato veramente un giorno di alluvione per creare dei problemi così grossi da fermare questo collegamento. E ci sono molte persone, chi per lavoro, chi per andare a trovare i familiari in ospedale, chi per altre questioni, che praticamente stanno in grosse difficoltà. E non si è pensato a creare un collegamento alternativo che limiti queste problematiche. Anche gli stessi pullman sostitutivi sono stati limitati per carenza di personale e per carenza di pullman. Per non passare poi ai problemi del CSTP, che da anni oramai è straniato anche i quartieri del Salernitano, dove andare a Brignano, andare nei paesi collinari della provincia di Salerno è diventato un lusso se non si ha la disponibilità di avere una macchina o avere un motorino a disposizione. Quindi noi come Asia denunciamo in maniera forte ciò che sta avvenendo sia nella Valle dell'Irno e sia negli altri collegamenti, dove oggi giorno in Campania, dove si pagano le tasse più alte di tutta Italia, ci troviamo ad avere una limitazione negli spostamenti. Quindi già ci sta problema per chi ha un lavoro, così veramente è danneggiato. Perché purtroppo gli orari non concidono con le disponibilità. Tanti elementari ci sono arrivati da commercianti, da persone che semplicemente vanno a trovare i parenti all'ospedale e anche questo è diventato problematico, e di persone che per questioni lavorative si stanno trovando in enorme difficoltà. Spesso si devono prendere delle ore di permesso perché non si riescono a conciliare il trasporto pubblico che oramai è diventato veramente centelinato. Questo è una grassa vergogna che io come al solito ci metto la faccia, denuncio apertamente le anomalie e mi aspetto di vedere dei risultati.